Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Eccoci nuovamente insieme dopo 8 anni dal mio switch su Studio One a presentare la nuovissima versione 6. Sono ormai diversi anni che collaboro attivamente con Presonus e con il team di sviluppo per la realizzazione di questa splendida Do. Sono orgoglioso oggi di poter presentare in anteprima assoluta la nuova versione 6 che migliora ed espande le funzionalità della versione precedente. Come sapete da diversi anni ogni aggiornamento di Studio One porta con sé diverse novità o features che accontentano le richieste degli utenti che sono state postate appunto sul forum di Presonus. In soli 3 anni infatti sono state aggiunte funzioni e riscritture del software per le nuove CPU come l'M1 in questo caso che hanno richiesto decenni ad altri competitors. Segno che il team di sviluppo è veloce attento e professionale. Ma veniamo subito alle novità di Studio One 6. Non so da dove iniziare per cui prenderò la scaletta delle feature che Presonus mette a disposizione ai beta tester. Per chi invece lo acquista in questo momento per attivarlo come sempre registriamo il nuovo codice seriale nel nostro account Presonus sotto la voce Register New Products. Selezioniamo software, copiamo il seriale e una volta registrato scarichiamo l'applicativo. Lanciamolo e se siamo connessi ad internet tutto verrà caricato velocemente. Dovremo soltanto attendere la validazione di tutti i plugin che abbiamo installato nel nostro sistema. Vi ricordo che è sempre possibile tenere installate più versioni di Studio One nello stesso computer senza comprometterle. Quindi se volete intanto iniziare a lavorare con la versione 6 potete continuare a tenere la versione 5 sul vostro computer. Ricordiamoci che però una song creata con l'ultima release, quindi se creiamo una song con la release 6, non potremo più caricarla nella release precedente, quindi nella release 5. Perché ci sono diverse modifiche al routing, alla sprogrammazione del mixer che non sono più compatibili. Senza ovviamente contare i nuovi plugin che ora andremo a vedere che ovviamente non erano presenti nelle versioni precedenti. Il mio consiglio come sempre è quello di scaricarlo, creare due progetti differenti di lavoro appunto fatti con Studio One 5, scaricarlo magari in Studio One 6, testare tutte le funzionalità prima di fare uno switching completo. Ogni problema che potrebbe verificarsi nonostante i nostri lunghi controlli approfonditi è possibile riportarlo nel forum di Studio One. Passiamo subito all'intro del nostro software. Come vediamo appena lanciato ci viene mostrata una finestra di accoglienza inedita, che prima non era presente, dove appunto avremo dei semplici ragguagli sull'uso di Studio One. Come vedremo la versione 6 ha degli aggiornamenti di interfaccia, perché è rivolta anche ad un'utenza meno professionale, quindi un'utenza che magari viene a contatto con Studio One da altre DO o in assenza completa di DO e quindi necessita di guide un po' più semplici da intercettare. Quindi abbiamo questa finestra di intervento Welcome e poi possiamo passare avanti. Ci viene mostrato già ovviamente l'aspetto dell'interfaccia principale. qui abbiamo l'Artist Profile, che ora contiene anche il website ed anche una finestra a tendina, che ci mostra più meta information rispetto a prima. Abbiamo l'Audio Device, la parte della nostra interfaccia che ci permette di collegarci immediatamente alla nostra scheda audio e quindi anche alla configurazione dell'interfaccia audio. L'External Device, se in questo caso si intendono tutto ciò che riguarda la connessione esterna MIDI o non audio, come ad esempio i controllers, le tastiere MIDI, i mixer digitali eccetera eccetera. Qui in alto abbiamo il Quick Switch, quindi un po' diverso da quello precedente, che ci permette di, con la casetta, di ritornare appunto nella Home, che è questa pagina qui iniziale e o switchare tra le song che noi abbiamo caricato simultaneamente all'interno di Studio One. Anche la sezione del Get Creative è cambiata, come vediamo abbiamo meno choices, meno scelte, ma appunto le hanno racchiuse in tre macro principali, quindi tre bottoni principali, li vedremo poi nei corsi nel dettaglio. Se vogliamo poi proseguire nella esplorazione di Studio One abbiamo la possibilità di caricare appunto dei video tutorial che troveremo nel nostro account Presonus e che ci guideranno appunto sull'esplorazione di Studio One 6. Diamo un'occhiata quindi all'interfaccia, un piccolo aggiornamento dell'interfaccia grafica, come vediamo logo e funzioni di apertura e chiusura leggermente diversi. Iniziamo dalla finestra di Studio One, Installation che troviamo qua in alto, quindi quella che poi apriremo una volta lanciato Studio One. In questa finestra abbiamo accesso immediato agli update dell'applicazione e anche a tutto ciò che riguarda l'installazione delle librerie aggiuntive che noi eventualmente avremo se abbiamo un abbonamento Sphere appunto. Quindi abbiamo i download disponibili, come vediamo, gli Available Updates delle librerie sia dei plugin sia di Studio One e l'Installed Content che appunto riguarda ciò che abbiamo effettivamente installato nel nostro computer che utilizziamo con Studio One. Per installare le applicazioni basta appunto cliccare e fare appunto Install. In questo caso Eleven Items, quindi ho 11 parti di Acoustic Drum Loop, eccole qui dentro, che non ho installato. Quindi come vediamo Installation è stata completamente tutta ridisegnata. Stesso discorso per la finestra di creazione New. Quindi quando noi apriamo la nostra finestra di creazione Song, adesso abbiamo a disposizione diverse opzioni. Ovviamente possiamo partire da dei Templates, quindi abbiamo appunto il Record & Mix, Master & Release, Release & Perform. Perform prende la parte appunto riguardante la Show Page. Play Now, Record Now, Product Bits, Create Contents, per chi appunto lavora come me su YouTube e crea contenuti. L'Import Files, Presonus Interfaces, se noi abbiamo già necessità di una configurazione mixer di Studio One relegata alle interfacce Presonus e le Song Demo. Questo anche è stato aggiornato e preparato per un'utenza più entry level, quindi è ora più semplice, molto più semplice di prima appunto accedere a dei macro progetti pronti per essere elaborati, oltre ai nostri che poi possiamo salvare qui nella sezione User. Nella parte destra di Record & Mix troviamo inoltre il Drop Files here, dove possiamo trascinare direttamente gli Stems o i file che poi utilizzeremo all'interno della Song di Studio One. Il resto rimane invariato, come anche il nome appunto, la destinazione, Sample Rates, Resolution, Bars, eccetera eccetera. La sezione appunto dedicata al Product Bits, qui appunto troveremo già installati e pronti per l'uso direttamente le sezioni di Bits Creation e Loop Creation all'interno di Studio One, che noi abbiamo già visto in altri tutorial. Master Release fa riferimento invece a quello che prima veniva chiamato Project Page, quindi un po' di adattamento anche ai nomi e quindi all'applicazione effettiva di ciò che ogni sezione fa in Studio One. Possiamo già da questa finestra, come vediamo, importare direttamente l'immagine di DP, oppure appunto trascinare i file e iniziare subito un progetto in maniera molto più rapida rispetto a prima. Rimanendo nell'interfaccia vediamo già che possiamo disporre di un Pin, quindi di una sezione dove le nostre Song vengono appunto preselezionate poi racchiuse e quindi un accesso più rapido a quelle che effettivamente più spesso utilizziamo. Possiamo comunque navigare in Song, Progetti e Show. L'interfaccia dell'Arranger, quindi ho aperto adesso una Song Test che uso spessissimo e vediamo subito alcune delle novità interessanti che sono state proprio introdotte nella versione 6. Come vediamo la grafica è stata resa tutta più smooth, quindi più leggera e intellegibile, ma andiamo ad esempio ad esplorare proprio l'inserimento delle tracce all'interno della versione 6. Quando noi faremo Aggiungi nuova traccia adesso abbiamo a disposizione come vediamo una finestra più semplice dove abbiamo Audio Instrument Automation e Folder. Creiamo ad esempio una nostra traccia, ma la novità effettiva di questa sezione è il Track Preset. Il Track Preset non è altro che la possibilità di avere una traccia con già all'interno, quindi creare una traccia con già all'interno tutto ciò che ci occorre per un determinato tipo di lavoro, che sia MIDI o che sia audio. Facciamo ad esempio una nuova song vuota ed aggiungiamo appunto una traccia di voce utilizzando il Track Preset. Abbiamo appunto a disposizione le cartelle Instruments Hybrid e Audio. Facciamo Beat più Vocal e vediamo che viene automaticamente aggiunte due tracce che contengono già i plug-in adatti all'utilizzo, ad esempio di caricamento di beat e appunto per la registrazione della voce. Come vediamo qui nell'inspector abbiamo già a disposizione i plug-in utili, ad esempio al mix della voce subito, immediati, compresi di send e effetti appunto in send, quindi abbiamo in questo caso riverber e delay già i preimpostati nel mixer. Altra novità di questa nuova interfaccia è la possibilità di customizzare questa zona qui in alto. Noi possiamo in ogni momento cliccare con il pulsante destro del mouse, aprire la customizzazione e scegliere di togliere o aggiungere parti in maniera da rendere anche l'interfaccia magari più piccola se ci troviamo su un computer portatile, quindi con meno affollamento di icone, tenendo appunto soltanto quelle che effettivamente ci occorrono. Magari stiamo registrando live e l'advanced tool magari non c'è utile o il control link possiamo toglierlo, come anche magari la info view se siamo degli esperti, lo scratchpad e il video player. Quindi possiamo creare un'interfaccia più piccola proprio per le situazioni live e salvarle come preset all'interno qui del, facendo uno store, creare appunto un preset in grado di essere più veloce da raggiungere. Lo stesso accade per l'ispector quindi anche l'ispector possiamo come vediamo togliere alcune funzioni, quindi rendere appunto l'interfaccia più configurabile, molto utile appunto come vi dicevo quando ci troviamo in una situazione in cui il monitor ad esempio non è grande o in spazi più ristretti e quindi abbiamo bisogno di un'interfaccia più ridotta, più semplice e veloce da utilizzare. A fianco abbiamo appunto il transport dove appunto possiamo anche in questo caso restringere e il browser qui al lato che anche in questo caso appunto esclude come vediamo dai menu alcune voci che non ci tornano utili in alcune situazioni. Guardando all'ispector vediamo già un look molto più sobrio rispetto a prima, un po' più arrotondato, più semplice da intercettare. Non è un enorme cambiamento ovviamente quindi chi passa dalla versione 5 alla versione 6 non troverà grosse difficoltà ad adattarsi a questa interfaccia. Le label qui in basso sono state leggermente arrotondate e come vediamo subito è stato aggiunto un nuovissimo tipo di pan. Adesso infatti il pan è possibile ingrandirlo e muoverlo. In questo caso il pan è mono ma se noi ci rivolgiamo ad un pan stereo abbiamo la possibilità di scegliere il balance, il dual e il binaural direttamente qui nella traccia come avviene anche ad esempio su Cubase o su altre Do. La prima grossa grossa novità di Studio One 6 è l'aggiunta di due nuove track lane. In questo caso la più richiesta in assoluto che è la video track dove possiamo appunto caricare un video trascinandolo direttamente dentro all'interno dell'arrangiamento. In questo caso sto caricando uno dei miei video tutorial. Il video viene caricato e vediamo che automaticamente viene estratto l'audio dal video per essere poi riportato sotto in una traccia audio. Eccolo qua. Poi vedremo un tutorial dedicato proprio a questa funzione e all'utilizzo della traccia video all'interno di Studio One 6. Come vediamo possiamo già iniziare a lavorare. Trascinare ovviamente anche la traccia video su una seconda traccia e modificarla escludendo quella presente originariamente nel video. Questa nuova funzione ovviamente poi ci dà possibilità di de-editing quindi possiamo tagliare anche il video e l'audio e spostarli all'interno dell'arrangiamento. Questa è una funzione molto molto richiesta soprattutto per chi come me monta diversi video o prepara colonne sonore direttamente sui rulli dei film e quindi è una di quelle funzioni molto molto richieste negli ultimi anni dagli utenti di Studio One Pro. La seconda traccia molto richiesta è stata la lyric track ossia la traccia per aggiungere il testo all'interno delle song quindi in questo caso è molto semplice basta cliccare in ogni punto ed inserire il testo a mano quindi come vedete è molto semplice e viene poi evidenziato è possibile poi spostarlo e crearne altri all'interno della della song quindi anche agganciare magari appunto i ritornelli eccetera eccetera questo ci torna utile magari se stiamo registrando o cantando o anche per aggiungere delle sezioni di informazione all'arrangiamento in questo caso anche al video dove magari vogliamo aggiungere delle informazioni importanti che il regista ci sta comunicando all'interno del video per poter poi aggiungere la colonna sonora nuova sul video. Passiamo al mixer e andiamo a vedere subito delle particolarità interessantissime. Ritorniamo sulla mia song precedente e aprendo il mixer ci accorgiamo che abbiamo a disposizione come vi ho detto dei nuovi tipi di pen e una nuovissima funzione che troviamo qui al lato che si chiama father flip non era una delle funzioni richieste ma è estremamente utile a mio avviso una delle funzioni geniali che manca in tantissime altre do in questo caso attivandolo possiamo attivare i father quindi trasformare i father del nostro mixer nel controllo dei send bus che noi vediamo qua in alto senza dover quindi impazzire a muovere i father in questo modo o anche il pan in questo modo una volta sistemato il pan e il bus fader possiamo immediatamente ritornare alla sezione di mixer e continuare a mixare in maniera molto rapida possiamo assegnare questa funzione ad un tasto e renderla ancora più rapida come accesso vedremo anche in questo caso un video dedicato proprio a questa funzione e come utilizzarla al meglio all'interno dei nostri workflow. Altra novità riguardante il mixer è l'aggiunta di questo tasto che si chiama appunto channel overview che ci mette in modalità di channel overview veramente molto simile a quella di Cubase dove in questo caso abbiamo in un'unica finestra che possiamo anche tenere in primo piano gli effetti di insert di send e i Qmix direttamente da qui quindi lavorare direttamente con i plugin e gli effetti come vi dicevo in maniera molto rapida e più compatta anche per chi soprattutto non vuole tenere magari questa parte del mixer aperta e quindi nascosta ed avere accesso soltanto ai channels con la finestra appunto di riferimento come vediamo puoi navigare velocemente molto semplice. In questa nuova versione 6 i canali effetto possiedono ora l'uscita send che prima era appannaggio appunto soltanto dei canali bass quindi anche gli fx channel in questo caso possono usufruire di un send bass apriamone uno facciamo aggiungi fx channel e vediamo che anche l'fx possiede il suo send all'interno quindi ora è veramente molto molto simile al canale bass le differenze poi tra il canale fx e il canale bass l'abbiamo già spiegate in alcuni tutorial all'interno del mio corso di studio one i virtual instrument vst2 vst3 e anche audio unit che richiedono il e che possiedono un ingresso di sidechain per poter essere pilotati come ad esempio i vocoders possono ora essere utilizzati con questa nuova funzione direttamente dal mixer di studio one con la funzione sidechain input è sostanzialmente molto simile al sidechain del plugin ma del plugin audio come abbiamo ad esempio spesso visto nei compressori il nuovo tipo di sidechain viene considerato un extended sidechain abbiamo la possibilità quindi di inserire il sidechain direttamente in send o in post questa è un'altra grandissima opzione del sidechain ed includono un controllo di input level readout se ad esempio un sint o un plugin richiede più di un sidechain input possono essere tutti inviati contemporaneamente alle proprie destinazioni in questo caso il menu offre scelte come vediamo abbastanza multiple ed in questo caso il vocoder sta ricevendo il sidechain dal mai tai già che ci siamo vediamo appunto una delle prime novità a livello di plugin in questo caso abbiamo il vocoder come poter rinunciare un plugin di vocoder ne ho già parlato in un altro video riguardante il come utilizzarlo per avere un effetto tipo daft punk uno degli strumenti ovviamente ormai più utilizzati in assoluto dagli anni settanta ed è stato impiegato in tantissimi altri generi musicali quindi non soltanto nella musica elettronica ricordo appunto alcune tracce storiche ultra famose come quelle di moroder ad esempio o appunto dei daft punk il classico strumento in grado di trasformare le nostre tracce in un sistema a scale smontabile con la tastiera e lo vedremo in azione proprio in un video dedicato all'uso del vocoder prima di passare agli altri nuovi plugin diamo un attimo un'occhiata al microview controls i plugin di terze parti possono essere ora utilizzati quando permesso che è la funzione che avete visto spessissimo qui nella finestra quando noi clicchiamo una volta sul plugin e si aprono i controlli appunto del plugin e questo sistema di interfaccia è ora disponibile per alcuni plugin di terze parti che vorranno appunto utilizzarlo è comodo perché possiamo accedere ad alcuni parametri del plugin senza aprire il plugin stesso rimanendo nel mixer la funzione track preset adesso aggiunge un nuovo livello che ci permette di salvare ogni aspetto di una traccia quindi non soltanto agli effetti in insert il sistema funziona anche per le tracce multiple come quando ad esempio ci serve per salvare una serie di tracce già pronte per mixare una batteria o una sezione di archi già caricata di virtual instrument track preset registra i parametri della traccia e dei canali per un recall istantaneo questo include quindi tutti i parametri della traccia il delay il time stretch il follow course eccetera eccetera quello che prima abbiamo utilizzato per caricare noi già un preset di tracce pronte per l'utilizzo funziona anche in maniera ovviamente inversa e quindi possiamo salvare un nostro track preset e riaprirlo come dicevo molto rapidamente su tutte le song questo ci evita anche di dover utilizzare la funzione import session data e quindi ricaricare i canali da un'altra sessione il copy and paste è stato modificato per essere copiato anche su più canali quindi non su uno soltanto quindi se noi facciamo ad esempio copia possiamo selezionare più canali e fare incolla paste ed averlo immediatamente su tutti gli altri canali altra funzione molto richiesta dai newbies quella del track channel icons ossia le icone per i canali del mixer non l'ho mai trovata utile ma c'è a chi piace in questo caso basta attivarla appunto dal mixer eccolo qui sotto e scegliere poi il tipo di strumento che noi vogliamo ad esempio utilizzare o rappresentare all'interno del track icons quindi se andiamo su voce abbiamo già lead vocal qui i loop quindi andiamo su drums effetti e ovviamente customizzare anche il main e il listen bass qualora utilizzassimo le cuffie qui e gli speakers quindi saranno felici ed accontentati tutti quelli che adorano questa funzione e che provengono magari da logic dove la usavano molto spesso nella sezione channel list che noi abbiamo qui abbiamo ora la possibilità di utilizzare un filtro quindi aggiungere dei filtri alla channel come ad esempio volessimo vedere soltanto quelli che si chiamano vox automaticamente vengono selezionati e mostrati soltanto i canali con la scritta vox questo sistema di macro search molto rapido e facilissimo da utilizzare lo trovo molto utile come implementazione mi permette di navigare all'interno del mixer in maniera molto rapida senza dover andare a cercare o utilizzare soltanto le macro choice che avevamo prima qui sotto come appunto audio instrument effetti adesso possiamo farlo per nomi e quindi scegliere molto velocemente ciò che ci occorre all'interno del mix andando invece nella sezione di project page la funzione di target loudness che prima avevamo a disposizione nella project page è ora attivabile direttamente dall'export mix down quindi quando ci troviamo in questa sezione possiamo ora scegliere di aggiungere il loudness control quindi la direzione precisa di un certo tipo di loops da rispettare direttamente nel file di export e questo ci è utile se facciamo tantissimo broadcast ad esempio come in questo caso appunto è settato a meno 23 e dobbiamo necessariamente uscire con quel tipo di loudness per ad esempio il cinema o le trasmissioni televisive in alternativa possiamo impostare il nostro ad esempio per lo streaming e andare appunto nella sezione custom qui ne abbiamo comunque a disposizione già creati per soundcloud netflix eccetera una piccola funzione molto utile proprio per questo genere di applicazione la lyric track poi possiede un suo display dove è possibile appunto editare la canzone spostarla modificarla aggiungere allineamenti e tantissime altre cose il motore audio è stato ulteriormente migliorato ora è possibile supportare files fino a 786 kHz in recording e in playback per i più maniaci ovviamente questa funzione è in base al tipo di scheda audio che stiamo utilizzando e se la sopporta o meno in mac os quando necessitiamo di superare i 192 kHz dovremo prima selezionare un nuovo sample rate dall'audio midi setup e poi successivamente farlo in studio one quindi ricordatevi questa cosa questo sistema è al momento supportato da pochissime schede audio mi viene in mente soltanto rme o spl una fetta importante poi dell'aggiornamento di studio one deriva poi da presonus sphere qui nella sezione join che vediamo qua in alto accediamo direttamente al nostro account di presonus sphere e abbiamo a disposizione il nostro workspace in maniera più più semplice ed intuitiva quindi non è più presente nella sezione del browser dove era prima qui possiamo creare appunto i nostri progetti con i nostri artisti di riferimento e lavorare poi direttamente sulle cartelle condivise gli utenti infatti possono usufruire di questa nuova feature per condividere i documenti online e collaborare appunto con altri utenti non sarà più necessario archiviare manualmente e caricare i file zip studio one provvederà a condividere soltanto quelli necessari e non l'intero folder di documenti tralasciando ad esempio alcuni contenuti che non è necessario ricaricare ogni volta sto parlando appunto di quei file temporanei per ridurre proprio i tempi di caricamento e scaricamento dal server e concentrandosi solo sul trasferimento dei file effettivamente differenti lavorare su un progetto come team non richiederà più che tutti i membri siano iscritti a presono sphere una volta che un utente sphere ha creato l'area di lavoro chiunque in possesso di studio one 6 potrà accedervi e lavorare insieme sarà un grande spunto per collaborare online con tutti gli allievi e gli utenti dei vari gruppi facebook che io possiedo quindi potremo appunto tra gli altri utenti creare dei progetti condivisi e lavorare direttamente insieme come ad esempio i remix che facciamo spesso ritorniamo ai nuovi plugin quindi ritorniamo nella nostra song e andiamo subito a vedere che è il deesser un derivato appunto della sezione di comp di studio one e in questo caso appunto è dedicata proprio al deessing utilissimo ovviamente sulle voci per ridurre il tipo di s quindi è un ovviamente un ben pass quindi dobbiamo scegliere appunto dove puntare la frequenza parte da 2 kHz fino a 12.000 quindi cerchiamo di scegliere appunto quella più semplice possiamo utilizzare pulsante listen per intercettarla in maniera molto precisa e poi correggerla qui abbiamo il redaction level e il tipo di shape se lo vogliamo più stretto o più wide più largo il vocoder l'abbiamo già visto l'altra grandissima novità è il pro q3 che ora racchiude delle nuovissime funzioni dinamiche applicate alle bande di eq trasformandolo di fatto in un eq dinamico molto molto simile a quello di fabfilter o anche di ornette che io spesso consiglio è utilissimo nelle fasi di mix e di mastering ovviamente facendoci risparmiare appunto l'acquisto di altri plugin di terze parti le funzioni a disposizione sono attivabili o disattivabili e fanno riferimento a un threshold e un range non abbiamo ovviamente controlli approfonditi di attacco e rilascio ma comunque è una soluzione estremamente comoda in tantissime situazioni in cui è necessario controllare dinamicamente l'equalizzatore anche l'autofilter ha subito dei cambiamenti eccolo qui possiede ovviamente il sidechain che è stato implementato e la grossissima ovviamente implementazione fa riferimento alla sezione di inviluppo che possiede ora i controlli di attacco e rilascio separati ad offre un controllo dell'lfo più preciso attraverso proprio l'opzione flip che troviamo qui in basso gli amanti dei modulari ameranno sicuramente questo questa implementazione gli strumenti interni di studio one come ad esempio mai tai supportano ora il note controller in modo da integrarsi completamente nei controllers che modulano la nota quelli che appunto abbiamo già visto come il seaboard e che utilizzano appunto le funzioni di mpa polyphonic aftertouch nella sezione browser che abbiamo tralasciato grazie alle nuove funzioni troviamo ora un'altra grandissima richiesta degli utenti di studio one il custom preset folder cioè noi possiamo andare negli effetti e creare un folder custom appunto dei nostri plugin quindi non soltanto i favoriti o i track preset ma possiamo crearne uno che chiameremo ad esempio jgr ed avere dei plugin che possiamo appunto confezionare molto rapidamente trascinando i plugin all'interno e quindi selezionando quelli che poi effettivamente noi utilizziamo più spesso in questo modo abbiamo un nostro custom folder e possiamo ricercarlo molto velocemente quando ci occorre lavorando poi con diversi utenti e quindi con diversi artisti è possibile aggiungere un artist profile e quindi cambiarlo anche nelle esportazioni degli mp3 dove ad esempio sono contenuti proprio i metadati che noi troviamo qui per fare questo possiamo creare un artist qui al lato ed aggiungere un nuovo artista per poter poi esportare le song con i metadati all'interno sistema molto utile perché spesso poi dovevo farlo a mano e così diventa molto più semplice da eseguire queste sono tutte le novità di studio one 6 le vedremo poi sviluppate in altri tutorial e soprattutto troverete i tutorial aggiornati nei nostri corsi di studio one pro sulla mia piattaforma www pro audio learning punto com nei tutorial che vedrete qui sul nostro canale e sui miei corsi professionali di studio one avremo sempre tutta l'interfaccia attiva quindi senza customizzazioni per tenere sempre tutto sotto controllo e familiarizzare allo stesso tempo con tutte le funzioni utilizzeremo una interfaccia più semplice nei tutorial per principianti ad esempio quelli su studio one prime che sto facendo proprio in questi giorni ci saranno quindi dei nuovi corsi aggiornati nuovi video completamente girati da zero per la versione 6 di studio one in italiano visto che in questa versione ho potuto personalmente curare la localizzazione del software vedremo poi al termine di questo video che cosa è stato modificato effettivamente nella localizzazione italiana con l'aumento delle librerie e dei software supplementari preso uno sphere era necessario come vediamo aggiungere una nuova finestra di installazione o studio one installazione in questo caso in italiano abbiamo quindi qui la possibilità di creare un'installazione minima un'installazione consigliata è un'installazione completa partendo da una minima di 234 megabyte come vediamo studio one estremamente contenuto nel consumo di risorse un'installazione consigliata che appunto contiene l'applicazione più alcuni elementi come anche la demo song e l'installazione completa che arriva fino a 77.74 circa 78 gigabyte di librerie e suoni come dicevo la nuova versione di studio one 6 ha un layout e traduzione in italiano completamente rivista insieme al sottoscritto abbiamo preso delle decisioni in base alla velocità di utilizzo e funzionalità lasciando inalterate alcune parole in inglese perché oggettivamente intraducibili in italiano in alcuni casi con un doppio significato come vedremo della stessa identica parola quindi non vi preoccupate perché le funzioni principali sono rimaste invariate e le piccole modifiche si riferiscono ad esempio a problemi di larghezza grafica che venivano alterati dalla traduzione in italiano come temporizzazione per chi lo ricorda sotto nella divisione musicale la modifica più importante però riguarda la parola send in italiano mandata creando confusione soprattutto ora nella versione 6 con le nuove mandate di sidechain diventano più complesse anche per non avere un'ulteriore confusione con la parola invia che anche in questo caso in inglese si dice sempre send così invia a notion rimane in italiano mentre per quanto riguarda le mandate sul mixer viene ora adottata la parola in inglese send per lo stesso motivo anche la parola show in inglese oltre che riferirsi allo spettacolo quindi alla show page veniva utilizzata dai menu di vista o mostra in questo caso la traduzione in italiano è stata modificata per visualizza tutti i canali e ad esempio o mostra tutto mentre rimane show in inglese per la show page ed alcune sezioni i termini tecnici invece come pick rms sono stati rimessi in inglese per non creare problemi di visibilità nelle finestre dei plug-in infine la parola default prende il posto di predefinito per rimanere compatibile con i sistemi operativi e con gli altri plug-in così da avere una correlazione sempre tra i due linguaggi quando si affronta la traduzione di una do come anche di quello che riguarda l'aspetto tecnico di una lingua ci si trova a dover affrontare il problema dei neologismi e dei termini che non hanno una corrispondenza nella lingua di arrivo in campo tecnico e in campo audio ovviamente la terminologia anglosassone ha preso il sopravvento decenni or sono ma come ad esempio invece la terminologia italiana prende posto nella nomenclatura delle partiture in maniera abbastanza naturale la parola strumento è stata usata soltanto per indicare gli strumenti musicali virtuali e non per tradurre la parola tool o tools che ora rimangono in inglese anche questo generava confusione in alcuni momenti dell'uso della do non crediamo che tools possa essere frainteso con altre parole visto che è ormai in uso anche nella lingua italiana corrente stiamo ancora valutando la possibilità di inserire i nomi in italiano all'interno delle icone traccia al momento sono rimaste in inglese perché sempre per un discorso di interfacciamento con i plugin ad esempio di terze parti kick o snare li ritroviamo nello stesso modo nei plugin non capirà mai di vedere un plugin di terze parti con il nome cassa o rullante o charleston in questo caso l'italiano diventerebbe comunque parzialmente ibrido in un set di batteria con tutto il rispetto che io porti per la lingua italiana un utilizzo di un software di questo tipo richiede una attenzione alla praticità di utilizzo più che alla forma anche eliminando gli articoli che intralciano in questo caso spesso lo spazio che in inglese le medesime parole occupano nelle finestre di dialogo o dei menu quando possibile ho cercato con molta attenzione di rispettare il lessico e la terminologia italiana al mio meglio ma potremo comunque correggere alcune cose nelle prossime release di traduzione chiedo a voi tutti utenti di studio one un aiuto nell'intercettazione degli errori eventuali che potrò sistemare molto velocemente credo che sia onorevole avere una versione italiana di questa splendida do ed è sempre a mio giudizio importante creare una via alternativa di condivisione linguistica senza incorrere in neologismi inappropriati o inutili che invece sembrano trovare drammaticamente spazio sulla treccani ma non finisce qui ci saranno corsi supplementari anche su altre piattaforme italiane oltre alla mia personale su pro audio learning punto com insomma durante questo inverno vedremo tantissime novità che espanderanno il mio il nostro canale oltre il normale riferimento per gli utenti di studio one in italia gli utenti della nostra piattaforma pro audio learning punto com che hanno già acquistato i corsi di studio one 5 negli ultimi tre mesi avranno accesso gratuito ai corsi di studio one 6 per tutti gli altri utenti sarà possibile comunque acquistare il nuovo corso interamente registrato da zero anche per chi lo volesse utilizzare in lingua italiana è previsto uno sconto del 50 per cento sarà necessario richiederlo via email sempre a info chiocciola pro audio learning punto com specificando nome cognome indirizzo email utilizzato per la registrazione al sito altri sconti e novità per gli iscritti alla piattaforma saranno annunciati nei prossimi mesi le novità in questo senso sono molte non vedo l'ora di annunciarvele il nuovo corso di studio one 6 sarà presto disponibile in due versioni e lo troverete sulla piattaforma come dicevo www.proaudiolearning.com e su altre piattaforme in versione più ridotta ed accessibile a chi necessita soltanto di alcune specifiche lezioni senza i file di supporto le lezioni di mix e mastering applicato le esercitazioni insieme che invece sono rimangono proprietarie del corso pro di pro audio learning punto com gli iscritti verranno comunque avvisati via email personalmente se avete domande richieste postatele qui sotto al video cercherò di fare il possibile per rispondere se il video vi è piaciuto date un like e iscrivetevi al canale perché questo mi aiuta ad esporlo e a rendere più fruibili i video che io propongo e a voi non costa assolutamente nulla per il momento è tutto ciao a presto spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito pro audio learning punto com affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube music of non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto ciao